sta per iniziare un viaggio che ci trasporterà attraverso la città la sua lunga e ricca storia il suo cuore polsante il mondo infinito della ricerca e dei suoi ricercatori vogliamo trasmettervi ciò che per noi è la scienza l'innovazione la tecnologia vogliamo farvi partecipi della nostra curiosità della nostra passione perché tutto questo succede proprio ogni giorno Grazie per la visione